L'impatto dei cambiamenti climatici sicuramente ha degli effetti sulla fauna. Principalmente ci sono delle specie che sono particolarmente sensibili a questo tipo di cambiamento. Proviamo soltanto a immaginare la differenza che ci può essere tra degli animali eterotermi e degli animali endotermici. Quindi la differenza che può essere tra i rettili e i mammiferi. Ovviamente i primi sono molto più sensibili. Per quanto concerne invece i mammiferi e quindi gli ungulati di cui vogliamo parlare questa mattina, l'effetto del cambiamento climatico è differente a seconda delle tipologie di specie che andiamo a prendere in considerazione. Se prendiamo in considerazione ovviamente le specie che vivono in montagna, e quindi faccio riferimento per l'Italia al camoscio o allo stambecco, è ovvio che con il riscaldamento globale loro hanno avuto delle problematiche. Cioè tendono a spostarsi più in alto, anche perché c'è la pressione delle altre specie che invece seguono, visto che migliorano le condizioni ambientali anche ad attitudini maggiori. Per quanto concerne invece le altre specie che troviamo lungo tutto quanto lo stivale, non sempre il cambiamento climatico rappresenta un grosso problema. Provate ad immaginare ad esempio che con il cambiamento climatico noi abbiamo del pascione, ovvero dei periodi in cui la flora produce maggior frutti, maggior risorsa trofica per gli animali, e quindi questo invece rappresenta proprio un'opportunità. Sappiamo infatti che per esempio la dimensione delle cucciolate, la dimensione ovviamente dei piccoli, la quantità dei piccoli per ogni parto aumenta proprio in proporzione a quelle che sono le condizioni fisiche della madre. Quindi una madre che avrà un peso maggiore potrà generare molti più piccoli. E questo lo abbiamo visto, lo vediamo molto bene con la specie cinghiale, che ovviamente avendo un peso soglia minimo per le scrofe, per poter essere coperte, con una maggior disponibilità trofica, questo ha sicuramente contribuito assieme ad altri fattori a decretare il successo di questa specie. Un altro aspetto sempre correlato ad esempio al cinghiale è proprio quello che gli inverni miti, le primavere più miti ovviamente tendono a favorire la sopravvivenza dei piccoli, dei lattonsoli di cinghiale. Quindi non sempre il cambiamento climatico è qualcosa che ha effetti negativi sulla fauna, dipende ovviamente dalla tipologia di fauna, dalla località e dagli habitat frequentati e ovviamente nel quadro italiano in cui al cambiamento climatico in atto si aggiunge una profonda trasformazione del territorio con un aumento generale del bosco, sappiamo adesso che la copertura boschiva è arrivata a circa il 30% della superficie totale, tutte queste realtà invece contribuiscono a favorire gli ungulati e diciamo a cascata anche il loro predatore per antonomasia, ovvero il lupo.